L'iposito intanto è che tutte le parti in campo debbano cominciare a dialogare e a costruire un progetto comune. È impossibile costruire dei progetti separati perché quando ci troviamo a confrontarci all'interno della filiera senza coesione e ognuno pensando al lavoro che è piccola parte è probabile che il risultato non ci sia. Il resto del mondo sta lavorando così, noi saremmo proprio gli unici a non farlo. Ne abbiamo grande possibilità proprio perché abbiamo le malinite da utilizzare, però dobbiamo fare coesione. Ai rappresentanti del governo che oggi saranno qui che cosa chiedete come autorità? Intanto di cominciare a incentivare la capacità di coesione perché tutto ciò che è successo finora ha solo portato a un'incentivazione di strutture che si sono poi rivelate poco utili. Dobbiamo cominciare a costruire una strategia, una politica e quindi il compito spetta proprio al governo.